Loro fanno ciclismo tutti e due e quindi sono appassionati e quindi adesso vorrebbero una foto. Daniel è un bel, senz'altro un bel gregario, un bel compagno di squadra per tutti perché è un gran bel corridore. Non so, la prima impressione ti può dare a tatuaggio per braccio che uno è fatto, no? Ovviamente quando conosci bene Daniel è una persona molto umile, è un ragazzo molto bravo. Devo scegliere un amico durante la gara che sta in camera con me e sarà lui perché ride, poi si scherza, quando gli devo dire che deve stare zitto sta zitto. No vabbè poi parlando di oggi, giornate come oggi alla fine fanno bene anche per le gare future nel senso quando vai davvero a fondo come oggi che fai tanti chilometri anche cercando di spingere più che puoi per cercare davvero la fatica da vera che la fa, ti fa fare lo scattino in più. Poi per Sanremo sai quegli appuntamenti di un giorno dove davvero mettiamo il bollino rosso. Siamo nella prima parte di stagione, per mio inizio stagione intendo le classiche, quindi il corso monumento come la Sanremo, la Roubaix, il Fiandre. Chiaro che abbiamo già fatto delle gare, tanti allenamenti, parlo dell'inverno dell'Australia con il Tour Down Under, però diciamo che dalla Tireno Adriatico a Milano Sanremo e le grandi classiche del nord, questo rappresenta per me l'inizio stagione e qui siamo. Qui si mangia e si ascolta buona musica. Ragazzi è dura, quanto manca due tappe, abbiamo già fatto le più lunghe, le più dure, oggi è una tappa piatta, però 190 chilometri. Siamo quasi alla fine quindi la fatica ci fa anche sentire ma tutto sommato siamo in crescita. Siamo in crescita, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. La giornata per velocisti oggi! Ora facciamo sul termine amatoibili. All'ultimo, è stato un progetto in questo progetto Borohan Scroo che mi è sperato che uno dei la più famosa squadra del mondo. Possiamo dire che ciclismo è come calcio, che è una squadra, però sì. Dietro c'è un sacco di programmazione, un sacco di investimenti, quindi un sacco di energia, un sacco di aspettative. Ognuno ha il suo ruolo e se riesce a fare il suo lavoro bene, puoi fare molto più futuro come squadra, come individualista. Quando è ora di fare i seri, si fa i seri, quando è ora di ridere e scherzare, siamo in piena sintonia. Questo è quello che in un gruppo tante volte fa le differenze. Se non sai la gente torno che ti gode il risultato con te, che abbiamo vinto tutti, neanche vittoria non ti dà soddisfazione. Può essere successo di tutti e può essere successo di uno. Io preferisco quello successo con tutti. Poi lavoriamo nel pelettono, aspettiamo nella zona fizzera, quando arrivano i ragazzi, e a volte prendiamo da ragazzi extra città, dopo la zona fizzera, andiamo per la linea, step by step. La polizia è in fronte del pelettono, abbiamo tutto pronto per il rider. da pazienza con i wildersi. Come il problema sanno? Come? Segui passi tutto sotto la corsa, Fai tanto dialogo prima delle corse, durante la corsa. poi che certi movimenti in gruppo ormai si riescono a intuire e si riescono anche a trasmettere. Poi quando si è in alcune situazioni delicate molto veloci, quasi non si parla, quindi si reagisce molto a istinto e si cerca di capirsi al volo. Da un punto di vista del risultato, magari le ambizioni sono sempre quelle ovviamente, con un campione come Peter, di vincere. Volevamo sempre brindare alla fine della giornata con qualche vittoria. Non esiste un'unità di crisi da noi, non ci si ritrova, Peter dice quello che pensa e si va avanti seguendo un po' la sua realtà intellettuale. Il grande punto forte è che stiamo lavorando in una direzione che la vedo molto buona. Stiamo facendo documentare e stiamo aspettando Peter e Daniel Oz perché vogliamo intervistare e vogliamo poi inviogli in questa nostra storia. Ciao, ciao. Eccolo, va. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. André. Ciao. Daniel, non lo conosco tanto ma lo vedo da tanto tempo in tv e sicuramente è diverso dal solito corridore tutto un po' squadrato, tutto preciso. È molto importante secondo me il ciclismo perché ci aiuta ad avvicinarci di più a questo sport perché altrimenti sembra abbassato solamente sulla prestazione, sui battiti, sui tempi, sui chilometri. Daniel ci dice che il ciclismo è anche qualcosa altro, è musica, è passione, è ribellione, no? Con il suo stile, con il suo respeto e sicuramente con il suo super forte supporto per Peter o per altri rider, ha fatto il suo proprio brand in un po' squadra. Il ciclismo è diventatoダ e non è vero. E' un'idea di quello che si può fare perché ci riesce a vedere. È un'idea di quello che si può fare. È un'idea di quello che si può fare. Il ciclismo è un'idea di quello che si può fare. E' un'idea di quello che si può fare. Mi piace molto. è arrivata a vita di tutti i giorni. Questa è una situazione di win-win per i bambini. Daniel sa quanto importante è Peter per lui, e anche in un modo diverso. Peter capisce e sa quanto importante è Daniel per lui. Probabilmente uno dei migliori gregari che esistono attualmente. Sa come si corre, soprattutto come in Belgio, momenti caldi. Sa mantenere il gruppo calmo. Siamo stati compagni di squadra quando sono entrato in Liquigas 2010. Siamo stati come una coppia che facevamo bene. Si teneva duro in salita, staccavamo velocisti. Mi faceva molto spazio anche per creare la gara insieme. Io credo che il destino sia già scritto. Alla fine siamo trovati di nuovo qua in Boransgrohe. Dovete considerare che il Pullman è la casa del team e dei ciclisti. Possono sfogarsi, possono ballare. Perché è l'unico posto sacro che abbiamo. Cambiamo un hotel al giorno, una stanza al giorno. Ogni giorno ci sono fans da accontentare. Adesso è difficile portarlo via, ma bisogna. Il Pullman è l'unico posto dove stiamo sicuri. Le famiglie non possono entrare sul Pullman. È la nostra casa. È la nostra chiesa. Oggi è una gara cronometro. Sono quelli di classifica o gli specialisti nelle gare cronometro che oggi hanno delle cenzole, dei motivi per andare veramente a tutto. Però essendo l'ultima tappa della gara, ce la prendiamo con un po' di calma. Noi oggi abbiamo Fernando Bodnar, che è un specialista nel gare cronometro, e Davide Formo, che vogliamo fare l'ultima prova per avere i meccanismi, per avere tutto sotto controllo per quando arriva il grande appuntamento del Giro d'Italia ai primi di maggio. Ate! Usa il chiacchino! Ci vediamo perché! E poi scontarla! Ate! 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 Scevola! Ate! 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 Adesso ci siamo trasferiti dopo la gara sul Lago di Garda, qui in realtà siamo venuti per avere un momento tranquillo, nel senso che possiamo pedalare su delle strade abbastanza comode. Facciamo un giretto a tre strade di Daniel Ross, poi vediamo la sua casa bellissima. Siamo vicini a Milano, quindi siamo già pronti per la prossima gara a Milano Sanremo. Siamo passando due o tre giorni di ricarica con un buon recupero, anche di qualità. La Tireno è stata dura, però abbiamo costruito tutto quello che serviva per andare forte. Quello che vogliamo è quello di non avere dei gran rimorsi a fine gara, questo è l'importante di tutti. Cioè nel senso, siamo forti, abbiamo le gambe, abbiamo la testa, vogliamo arrivare ad un obiettivo? Ok, ci possiamo staccare, può succedere qualsiasi cosa, un problema meccanico, ok. Però l'importante è arrivare lì con il coltello fra i denti e giocarcela. Poi il risultato, la statistica dice che arriva. Fa sensazione, se può passare la testa. Un retro się delle cose di un pittà e giocarcela. Un retro się grazie a tutti i dati. Quello, con l'altro occhio, a tutti i minuti o città, un retro si rinazzo alla cange. Grazie a tutti.